Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Di Crescenzo, sono un fisioterapista e sono qui per recensire il gestionale di Fisiodesk. Devo dire innanzitutto che è un gestionale che ormai ho qui in studio con me da più di un anno, forse sono stato tra i primi e di questo ne sono contento e soprattutto soddisfatto. Innanzitutto è un gestionale completo, un gestionale dove abbiamo tutto quello che ci serve, quindi da una grafica, scheda pazienti, agenda per gli appuntamenti, fatturazione e l'invio dei dati per la destra sanitaria. Si fa veramente in maniera molto molto rapida. Poi un gestionale intuitivo e semplice, questo ci permette chiaramente di fare tutto in maniera molto molto rapida e di farci sostanzialmente guadagnare tempo, che è una cosa molto importante all'interno di uno studio. E poi anche l'assistenza, l'assistenza è veramente immediata, Marco e Karim sono disponibilissimi in qualsiasi momento e risolvono il problema in maniera molto molto veloce. Quindi mi sento di consigliarlo e vi saluto tutti. Ciao! Grazie a tutti!